Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi domenica 24 giugno. Oggi ci sarà il vertice più inutile del mondo, anzi i vertici sono spesso del tutto inutili, cioè quello che si farà a Bruxelles sulla emergenza dei migranti. Come si vede chiaramente da tutti quanti i giornali ci sono due questioni fondamentali, due posizioni diverse per le quali ovviamente un accordo non si potrà ottenere. La posizione, mettiamola così, dell'Italia che si occupa dei cosiddetti movimenti primari, il Corriere della Sera o il Sole 24 Ore che forse lo spiega meglio degli altri, cioè dei movimenti di persone che da fuori vogliono arrivare in Europa. Mentre la Germania è più preoccupata insieme alla Francia e altri, addirittura a Hugues dalla Cina Joseph, gli altri si occupano dei cosiddetti movimenti secondari, cioè all'interno dell'Unione Europea, su cui sono ben più preoccupati i tedeschi. Non si arriverà a nulla di fatto, ma quello che sta avvenendo è che l'asse franco-francese, siccome in Europa ci vogliono maggioranze speciali e soprattutto unanimità, o si regge, e questo mi sembra di non averlo capito oggi dai giornali, ma forse è la considerazione in più che posso fare io, o si regge su una loro potere di moral suegio nei confronti di tutto il resto dell'Europa, e l'Italia a Hugues, Giorgio, ne ha sempre fatto parte, o quando l'Italia alza il ditino e dice guardate che il re forse è nudo sull'immigrazione, si scongela questo asse di ferro, tant'è che la Germania e la Francia oggi questo asse non riescono a far sì che porti a una conclusione unica sui migranti. In più Macron sta un po' perdendo la testa, perché una cosa sono le dichiarazioni di Salvini che riguardano terzi, cioè riguardano navi, riguardano Rom, riguardano l'Italia, riguardano questioni interne, più o meno dure. Vi ricordo quando Sarkozy definì le sue banlie e quelli che si agitavano nelle banlie, Françoise non mi smentire, raccai o una cosa di questo tipo, che era un insulto feroce alle banlie francesi, non è che all'epoca il ministro e il presidente del Consiglio italiano si permise di fare un accenno a quello che pensava Sarkozy. Invece cosa dice oggi Macron riguardo alla Francia? Oggi non esiste, non c'è una crisi in Italia per quanto riguarda i migranti. Sono un po' cavoli nostri di capire se c'è o non c'è una crisi. Soprattutto mi ricordo già qua a comuntarlo la frase scritta due giorni fa dal portavoce del Movimento 5 Stelle, cioè Marco Travaglio, che dice il grande successo internazionale di Conte, che era la telefonata della Merkel a Conte, il primo grande successo internazionale, giuro, l'ha scritto sulla prima pagina di fatto, il primo grande successo internazionale sarebbe la telefonata della Merkel a Conte. Nel frattempo, tre giorni prima Conte era stato da Macron, che nel giro di quattro giorni ne ha detto di tutti i colori. Se questi sono i successi internazionali dell'Italia, insomma siamo messi bene. Schauble fa una bellissima intervista oggi al Corriere della Sera, il falco dell'economia tedesca che dice che l'Europa senza l'Italia non esiste. L'altra intervista interessante di oggi è il ministro degli esteri, Moavero, l'europeista convinto che al messaggero dice che l'Europa rischia la fine se non si prete d'accordo sull'accoglienza. Insomma, detto da Moavero, che era il grande ministro dell'europeismo, voluto là, mi sembra incredibile. Vado avanti su tre grandi critici oggi di Salvini e su un consiglio che vorrei dare a Salvini se qualcuno dei suoi amici lo ascolta. Secondo me questo è il consiglio che Salvini potrebbe utilizzare nei prossimi giorni, ben più efficace delle cose che ha detto. Intanto De Borto li attacca sui condoni fiscali dicendo che non per chiusi sia chiamarla pace fiscale, ma era un'ipocrisia chiamare tale anche la volontari disclosure, è un'ipocrisia chiamare così anche gli scudi fiscali, sono tutti condoni. Certo, dice ricordati che anche i cosiddetti maltrattati di oggi con le cartelle fino a 100 mila Euro sostiene De Borto, che oggi tanto Salvini vuole compiacere, anche loro contribuiscono all'evasione fiscale. Certo, se uno fa il giornalista tutta la vita, da 18 anni ai 65 e ha la fortuna di avere sempre un contratto, può parlare come De Borto. Purtroppo il mondo è fatto da neri, grigi, proprio derivanti dal fatto che questo è un mondo del lavoro talmente incriccato, talmente pieno di regole, talmente costoso che porca puttana non tutti riescono ad avere questa vita favolosa da un punto di vista lavorativo simile a quella di De Borto. Non ce l'ho con De Borto, vi dico semplicemente che io per esempio per anni ho lavorato in nero nei giornali, come tutti quelli che hanno fatto i giornalisti sin da giovani. Quindi bisogna stare un po' attenti a dire che l'evasione fiscale in Italia esiste anche per un numero di regole di tasse allucinanti, non mi sembra che sia una confessione incredibile quella di dire di aver lavorato in nero io nel passato, anzi trovo che quel mio marciapiede sia stato l'apprendistato più importante. Contro Salvini oggi anche Panza, che dice tutti diventano salviniani, a me non sembra a partire dal suo giornale, quello di Panza, lui scrive che tutti diventano salviniani sulla verità e fa parte proprio di quelli che non sono diventati salviniani, lo dicesse al suo vicino, al suo direttore Belpietro, comunque sia. Per quanto gli riguarda non gli piace Salvini per niente ed è colpa di Renzi e delle sinistre la sua ascesa. Questa frase mi sembra di averla sentita pronunciare dalla taverna che disse in Parlamento, senza le grandi sofisticatezze di Panza, se io sono qua oggi, se questo governo è qua oggi e per gli errori che avete commesso voi ieri, che mi sembra abbastanza una banalità che riprende oggi Panza sulla verità. Feltri in maniera più argomentata, su Libero invece si scaglia contro Salvini per la cagata che ha fatto Salvini sui vecini, era meglio se Salvini stava zitto e soprattutto Feltri ricorda la sua infanzia a Bergamo, non esattamente in un paesino del sud, in cui si era pieni di, non ha avuto De Bortoli nella strada spianata, non penso questo, dico che è stato più fortunato di altri, nel senso che o si è dimenticato il tanto nero che girava quando lui è iniziato a lavorare, ma comunque Feltri ricorda i tanti ragazzini con la poliomilite durante il suo periodo infantile in cui era a scuola alimentari, quindi poliomilite che proprio per un'immunità di gregge, che qualche cretino dice non c'è più, è scomparsa. Bene, e arriviamo alle cose che mi riguardano e riguardano Salvini. Salvini invece di far parlare la buongiorno, il suo inutile ministro pubblico e amministrazione che come ovvio dice le prime cagate, però quando le dice la buongiorno sono cagate colossali che possono avere la dignità dell'intervista al Corriere della Sera a una prima pagina, perché la buongiorno è la buongiorno, non so per quale, quando uno si stabilisce a uno standing non gli toglie nessuno questo standing, la buongiorno bisognerebbe quando la si vede farle una grande pernacchia, purtroppo la si prende sul serio. Che cosa dice oggi? La grande pernacchia di oggi della buongiorno qual è? Basta i furbetti, mettiamo le impronte digitali. Bella idea, buona idea. Facciamo le impronte digitali e non mettiamo i furbetti. Allora, il mio consiglio a Salvini, se mi ascolta, e sono sicuro che qualcuno dei suoi uomini vicini mi ascolta in questo momento, quindi ascoltate bene che cosa vi dico. Salvini si deve occupare soltanto di una cosa, della prima pagina del Corriere del Mezzogiorno di oggi, perché quella roba lì è fondamentale, non le cagate che dice la buongiorno. Sapete cosa succede a Napoli? Che un paio di giorni fa c'è stato uno sciopero nell'ANM che gestisce le funicolari e poi improvvisamente, venerdì, cioè ieri, si sono dati malati soltanto gli aderenti alla sigla sindacale che aveva fatto lo sciopero. Però, siccome si sono messi malati, primo turno, secondo turno, caposervizio, cioè 4-5 persone chiavi, hanno dovuto chiudere le funicolari alle 14. L'altro giorno, con 4 persone assenti, 60.000 persone sono state a terra nelle funicolari di Napoli, dell'ANM, quindi insomma bastano 4 persone per tenere a terra le funicolari. Allora, se io fossi in Salvini, che fa il ministro degli interni e avessi un ministro della pubblica amministrazione che si chiama Buongiorno, purtroppo un po' meno efficace, invece di pensare alle impronte digitali, sapete che cosa farei? Io utilizzerei nei confronti di questi dipendenti dell'ANM napoletani lo stesso rigore che si ha nei confronti dei Rom, lo stesso rigore nei confronti di quelli che fanno le ONG, questi cazzo di sindacati, questo sindacato delle funicolari di Napoli. Prendi e ti inventi non le ispezioni fiscali, che non sono riuscite a trovare nessuno, stavano tutti male, tutti i certificati che stavano male quel giorno, perché ha provato il poveraccio dell'amministratore delegato a mandargli, stavano tutti male, oddio mi fa male il piede, oddio mi sento male, sono stressato, erano tutti giustificati a casa, hanno bloccato le funicolari da Napoli e questo continua da mesi, sapete che fate? Calci nel culo, calci nel culo, li arrestate per truffa, per quanto mi riguarda, chiaro? Si arrestano per truffa, non si mantiene una funicolare, un modo fondamentale per godere una città straordinaria come Napoli, ostaggio di 6, 8, 10, 15 dipendenti, che sono gli stessi pancabestia che stanno sulle navi, chiaro? Questo vuol dire essere uno che gestisce, secondo me, i problemi di un paese complicato come il nostro, quindi caro Salvini, oltre ai Rom, oltre all'ONG, ti prego, occupati delle funicolari di Napoli, il segnale delle funicolari di Napoli, credimi, vale molto di più di tutte le proposte un po' strampalate che fa Di Maio sul lavoro, oggi le vediamo sul Sole 24 Ore, dice rimettiamo la causale sui contratti a tempo determinato, per fortuna gli spiegano che quella era una roba burocratica che dava una noia incredibile, quindi al secondo rinnovo, sulle pensioni, che dice tassiamo le pensioni d'oro, soprattutto per la parte che non riguarda i contributi versati, cioè se io verso contributi e poi ottengo 8 mila Euro di pensione, è quanto ho versato io, quindi togliermi quella pensione vorrebbe dire Stalin, Marx, se mi sono messo io i soldi da parte per poi avere la pensione, allora non facciamo le retribuzioni a 6 mila Euro, a 7 mila Euro, sono ingiuste le retribuzioni, ci sta pure, difatti i comunisti per una vita hanno detto, diamo a tutti lo stipendio uguale, se uno si è versato i contributi perché gli devi tagliare le pensioni? Il ragionamento di Di Maio, tagliamo quella parte di pensione che non è giustificata dai contributi versati, bene oggi su Repubblica c'è un pezzo straordinario che racconta come funziona il sistema delle pensioni d'oro in Italia, sapete come funziona? Che chi prende più di 5 mila Euro netti al mese, per il 95% di quella sua pensione, se l'è versata con i propri contributi, quindi non sta rubando nulla a nessuno, è più ricco di voi, certo, come chi guadagna più di voi, certo, ma non ruba una lira a nessuno, anzi ruba il 5%, chi ha meno di 5 mila Euro di pensione, ed è un vecchio pensionato, ha il 75% coperto dei contributi, il 25% dalla fiscalità generale, quindi paradossalmente, non so se mi avete seguito, chi ha le pensioni tra i 2 mila e 4 mila Euro, prende alla collettività molto più di quanto faccia chi ha più di 5 mila Euro di pensione, quindi questo cosa vuol dire? Che la proposta di Di Maio di togliere le pensioni d'oro, la parte che non hanno versato di contributi, è una roba che darà pochissimi soldi e quindi col cavolo che toglierà i ricchi per dare ai poveri, come ha spiegato ieri in una sua dichiarazione, da leggere il pezzo di Repubblica, perché è un pezzo straordinario, quanti sono in Italia le persone che prendono queste cosiddette pensioni d'oro? Beh, insomma, sono 30 mila, non sono un numero eccessivo, e questi 30 mila, peraltro queste pensioni d'oro se le sono pagate, quindi che volete fare? Allora, il punto vero che oggi dicono alcuni è che probabilmente cosa vuol fare Di Maio non togliere solo a quelli che prendono 5 mila, ma anche a quelli che prendono 4 mila, o magari anche a quelli che prendono 3 mila, ecco, insomma, se questo è il segnale, è un segnale piuttosto preoccupante. Direi che per oggi è tutto, anche perché la connessione qua in Sardegna e l'ultimo giorno non è così buona, e i contributi chi li ha pagati, Giovanni? I contributi li pago io, io pago il 30% dei contributi, almeno io no, perché non sono dipendente, ma io pago i miei contributi, li hanno pagati, i contributi sono pagati dal datore di lavoro e dal lavoratore, chiaro? Ma sono pagati, non sono pagati da Babbo Natale i contributi, quindi non è un furto, i contributi li pagano esattamente il datore di lavoro e azienda. Io direi che se si sente male, lo so Anna, è un casino da qua, mi dispiace, vi faccio un rita anche a te una buona giornata, e vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani. Ciao, non sono sicuro perché sindacalisti e parlamentari hanno molti contributi figurativi, dice Ambrogio. D'accordo, quello è un altro discorso, sui contributi figurativi quelli sono, voglio dire, un discorso a parte sul quale si può e si deve discutere, ma stiamo parlando di 30 mila cosiddetti pensionati d'oro fuori dai parlamentari, fuori dai vitalizi, che sono tutto un altro discorso. Vabbè, buona domenica a tutti quanti, noi ci vediamo domani. Ciao!